a 19 anni e il suo sogno è quello di aprire un centro estetico questo almeno prima di diventare la prof di tik tok o meglio citando il suo profilo social la prof di tik tok elisa esposito classe 2003 è ormai diventata una star del web con tanto di ospitate in radio e serate in discoteca tutto grazie all'idea di insegnare sui social il corsivo la lingua caricatura nata per imitare la parlata cantile nata delle ragazze milanesi è finita per diventare un fenomeno social a tutti gli effetti buongiorno lunio benvenuti nella vostra prima lezione di corsia con i suoi oltre 800.000 follower su tik tok elisa esposito è diventata nelle ultime settimane un volto noto o meglio una voce nota filtro instagram occhiale e perfino registro in mano come una vera professoressa nei suoi video social spiega come articolare le vocali in modo caricaturale così da imitare la cadenza delle giovani milanesi ha iniziato a registrarli nel luglio 2022 dopo che molti le avevano fatto notare il suo singolare modo di parlare in pochi mesi i suoi contenuti sono diventati virali facendo conquistare alla ragazza migliaia di nuovi follower ma il web sa essere anche molto duro nell'ultimo video caricato sul suo profilo tik tok non ci sono né occhiali né vocali strascicate ma solo elisa che chiede tregua dopo i tanti insulti e le diverse minacce ricevute negli ultimi giorni complice dell'accanimento mediatico la gaffes della ragazza ai microfoni di rds quando nel tentativo di leggere in corsivo la divina commedia ha ammesso di non conoscerne l'autore ma chi è davvero la prof di tik tok nata e cresciuta a milano prima di avventurarsi nel mondo del corsivo elisa ha studiato in una scuola di estetica subito dopo il diploma la ragazza ha avuto l'idea di creare quello che nelle sue ultime dichiarazioni ha definito solo un personaggio nella mia vita di tutti i giorni racconta Elisa su tik tok parlo come tutti in un italiano normalissimo il corsivo è uno scherzo